Sabato 26 giugno alle ore 10.30 presso l'Aula Consiliare del Comune di Agropoli, Ettore Rosato, il presidente del partito Italia Viva, arriva ad Agropoli insieme ai due consiglieri regionali, Tommaso Pellegrino e Enzo Alaia. L'incontro si terrà presso l'Aula Consiliare del Comune di Agropoli, una riunione organizzativa con i vertici locali per presentare anche nella città capofila del Cilento, la campagna del partito, la primavera delle idee che si concluderà proprio ad Agropoli dopo tre mesi di dibattiti per i territori e per le comunità. Nel corso dell'evento sarà presentato il Movimento Cittadino Agropoli Città Futura della dottoressa Elvira Serra. Siamo molto contenti di ospitare Ettore Rosato nella nostra città e lo ringraziamo per essersi reso disponibile a partecipare a questa iniziativa promossa per la prima volta nella città di Agropoli, ha dichiarato Elvira Serra. Noi di Italia Viva, proprio come è scritto nella Carta dei Valori, ci ispiriamo ad un umanesimo integrale fondato sul rispetto, giustizia e uguaglianza. L'inviolabilità dell'identità, la tutela dei dati personali e la dignità delle persone sono il fondamento del patto di cittadinanza. Crediamo nel principio di solidarietà, nessuno deve rimanere solo. Di fronte alle sfide della vita vogliamo che i giovani siano i protagonisti delle scelte del nostro paese perché sentiamo la responsabilità di un patto tra generazioni. Ci sentiamo parte di una comunità i cui diritti vanno sempre associati ai doveri e l'impegno. È un valore irrinunciabile. Il coraggio e la passione per il cambiamento sono indispensabili per un'Italia migliore, per un'agropoli futura, continua la dottoressa Elvira Serra. Grazie a questa iniziativa, che va ad aprire una nuova stagione ricca di eventi ed incontri post-covid, il vicepresidente della Camera e presidente del partito Italia Viva incontrerà gli iscritti e i simpatizzanti del Cilento pronti a manifestare il proprio sostegno in vista delle ormai imminenti elezioni amministrative.